Leonardo Quindicenne suicida per bullismo, la battaglia per la verità della famiglia. La Guardia di Finanza di Ancona smantella le frodi di una banca segreta cinese. Il Partito Democratico pesarese lancia la sfida alle prossime regionali. Caso affidamenti diretti, continuo al lavoro della Commissione Controllo e Garanzia. Pesor capitale dell'inclusione di genere con il meeting annuale della rete Redi. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro spazio con l'informazione serale di Rossini News. Il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di venerdì 25 ottobre apriamo con alcune notizie che ci portano fuori dai confini della provincia di Pesor Orbino ma che hanno assunto una rilevanza di carattere nazionale. Oggi infatti siamo stati a Senigallia dove a 11 giorni dallo sconcertante, drammatico suicidio di un ragazzo di appena 15 anni vittima di bullismo, la famiglia e il suo avvocato hanno tenuto una conferenza stampa per invocare verità e responsabilità su quanto accaduto. A 11 giorni dallo straziante 14 ottobre in cui il 15enne senigalliese Leonardo Calcina si è tolto la vita sparandosi con una pistola sottratta al padre, agente di polizia municipale, i genitori di Leo con enorme sforzo d'animo hanno tenuto una conferenza stampa all'auditorium San Rocco assieme all'avvocato peserese Pia Perricci, legale amica di famiglia, che sta seguendo le indagini relative ad una tragedia annodata al malessere insostenibile derivato da episodi di bullismo. Conferenza motivata a delineare lo scenario in cui si è ritrovata la famiglia Calcina in poco più di un mese di scuola, le vessazioni esternate prima ai genitori e poi ad una scuola che a detta degli stessi ha avuto una condotta silente e omertosa fino all'atteggiamento sprezzante e impunito dei cosiddetti bulli. Due ragazzi e una ragazza denunciati dalla famiglia. Un percorso che appena gli inizia e che ha coinvolto pure il ministro Valditara con il quale l'avvocato Perricci ha calendarizzato per il 6 novembre un appuntamento per lanciare una proposta di legge che porterà il nome di Leonardo per scongiurare il ripetersi di simili orrori. Per ora procediamo con l'istigazione al suicidio, lo stalking e tutti i vari reati. Minacce, molestie e via dicendo. La proposta di legge che noi vorremmo fare, vorremmo portare è quella per istituire all'interno della scuola un obbligo scolastico di studio, di materie che ci rendano meno dipendenti dai PC e dall'altra parte che preveda anche il reato di bullismo. I genitori sono convinti che ci sia ancora qualcosa di nascosto che vada oltre il bullismo. Ci fa pensare che quello che è successo c'è dentro all'interno del cellulare di Leonardo, sono sicura. Il telefono di Leo è un iPhone ed è difficile aprirlo e ci vuole tanto tanto tempo. Non è una lotta per Leo, è una lotta per assicurare che non succedano più questi fatti. Il fatto che un ragazzo di quelli che noi abbiamo identificato il giorno dopo abbia fatto a botte con un altro ragazzo e che ieri e ieri, avanti ieri, ha postato un video sprezzante dove rassicura ai suoi genitori che al massimo in caso di rissa lo vanno a prendere il costura. Significa che questo ragazzo ha capito il disvalore di quello che ha fatto. Non ha compreso assolutamente nulla di ciò che ha fatto. Si vogliono dunque controllare i cellulari dei ragazzi segnalati nelle denunce. Lunedì l'Avvocato Perricci presenterà apposita istanza alla Procura dei minori. Io ho chiesto ai carabinieri di porli sotto sequestro. Dipende dalla Procura. Finora non abbiamo avuto notizie di questo genere. Il papà Francesco invita studenti e famiglie ad uscire dal muro di silenzio in cui in troppi si sono trincerati. Vorrei che anche i genitori si mettessero una mano sul cuore perché Leonardo era un bambino, un ragazzo buono, è un ragazzo che tutti vorrebbero come nipote, come figlio. Devono capire che essere educati non vuol dire essere deboli. Vogliamo che dicano quello che è successo perché io rifiuto di pensare che quello che è successo è successo per dei gridolini, delle vocine. Noi siamo pressoché convinti che c'è stato dell'altro e che ancora non lo sappiamo cos'è successo. Questo si può capire solo ed esclusivamente se i ragazzi, tramite i loro genitori, tramite i professori, che noi non demonizziamo in toto assolutamente, se i ragazzi parlano, perché tutti sappiamo, tutti siamo stati a scuola, che tutti sanno. Vorremmo ovviamente anche che un altro atteggiamento da parte della scuola, che finora non c'è stato, è stato un atteggiamento come minimo omissivo. I docenti che sono lì dentro, che hanno fatto le lezioni a Leonardo, dall'11 di settembre fino a che se n'è andato, non hanno fatto nulla. Quindi non sanno fare il loro mestiere, dovrebbero andare a fare qualcos'altro. La scuola ha omesso, ha omesso comunicazioni, ha omesso collaborazione, ha omesso sentimenti, umanità. La scuola non ha fatto telefonate, non ha fatto condoglianze, non è venuta al funerale di Leo. C'era tutta Senigallia e dintorni al funerale di Leo. Tutti. La scuola non l'ha fatto. E restiamo nella provincia anconetana, perché dalla Guardia di Finanza di Ancona si è concentrata un'operazione di livello internazionale dedicata allo smantellamento di una organizzazione criminale cinese ramificata in tutta Italia, al quale stanno seguendo indagini, sequestri e perquisizioni con 250 militari impegnati nei blitz. Nelle indagini è stata scoperta una banca clandestina di origine cinese munita di sportelli bancari occulti utilizzati per raccogliere, conservare e riconsegnare denaro da riciclare. Nove le misure cautelare fin qui adottate. Frode internazionale e riciclaggio sono le accuse per le persone coinvolte alle quali si sono già affiancati sequestri per 116 milioni di euro all'interno di un'operazione che avrebbe visto evadere circa mezzo miliardo di euro. Ed ora apriamo una ricca pagina di politica. Conferenza stampa oggi del Partito Democratico di Pesor Urbino che lancia la sfida alle prossime elezioni regionali e marca il territorio nei confronti della propria estranetà per quanto riguarda l'inchiesta sugli affidamenti diretti delle comune di Pesaro. Dopo la riunione di ieri del Partito Democratico che ha visto coinvolti dirigenti territoriali del provinciale di Pesor Urbino e delle Marche il PD lancia ufficialmente la sfida alle regionali parlando di un partito unito e rafforzato soprattutto a fronte dei risultati amministrativi nel pesrese della recente conferma della provincia e del successo europeo di Matteo Ricci che lo rende indirettamente, ma nemmeno troppo un eventuale candidato ideale per la sfida delle regionali. Questa conferenza stampa avviene il giorno dopo di una riunione importantissima che abbiamo fatto al partito cioè delle assemblee congiunte provinciale e unione comunale Pesaro dove il partito a tutti i livelli e dico a tutti i livelli perché era presente anche il partito regionale con la vice segretaria Bello Maria visto che la nostra segretaria Bonprezzi è impegnata per lavoro fuori regione quindi ecco una posizione del partito a tutti i livelli unitaria su ecco quello che abbiamo discusso. Ovviamente dopo le elezioni europee e poi la conferma dell'ottimo risultato delle elezioni provinciali posso dire che l'aria è completamente cambiata è cambiata perché c'era prima di queste tornate elettorali la consapevolezza da parte nostra e da parte di tutto il centro-sinistra di una regione contendibile visto lo scarso lavoro, gli scarsi risultati e i danni che Acquaroli ha fatto anche e soprattutto nel nostro territorio. Rilanciamo il modello Pesaro perché in qualche modo è quel modello che fa paura alla destra che si sta rappicando su tutto pur di mettere in cattiva luce anche con l'utilizzo di una campagna mediatica superficiale sta mettendo in cattiva luce tutta la buona azione del governo che noi in queste due assemblee congiunte abbiamo voluto rilanciare perché ci aspetta un traguardo importante in cui pensiamo di avere carte e persone in regola per competere. Partito Democratico che in occasione della conferenza si sofferma anche sullo scandalo che riguarda Opera Maestra e Stella Polare che di conseguenza ha travolto anche il Comune di Pesaro. Fulvi e Bellucci però ribadiscono l'estranietà dei dem alla vicenda la loro fiducia nella magistratura e puntualizzano di come il tutto sia nato in contemporanea alle voci di una possibile candidatura di Ricci per la presidenza della Regione Marche. Noi diciamo che la cosiddetta Afidopoli non esiste c'è un'indagine che riguarda Santini e siamo noi che vogliamo sapere che cosa è successo. Ora è chiaro che il lavoro della magistratura deve essere svolto nella maniera più serena tant'è che noi abbiamo anche aspettato a uscire pubblicamente perché non volevamo fare né confusione né interferire in nessun modo. Però siccome ultimamente parlano anche le Cicale è giusto che il Partito Democratico dia il suo contributo. Quindi massima fiducia nella magistratura e anzi auspichiamo che tutto questo percorso e questa indagine e questa verifica della situazione possa avvenire in tempi più brevi possibili e massima solidarietà, sostegno e fiducia nei nostri amministratori. Non riguarda i nostri amministratori che stanno collaborando nel migliore dei modi con gli inquirenti, riguarda un altro soggetto e noi vogliamo sapere che cosa è successo. Per cui è chiaro che la circostanza della partenza di questa campagna di delegittimazione di tutto il lavoro dell'amministrazione comunale parte dopo due risultati straordinari per la nostra città perché non ci nascondiamo che l'elezione di Biancani al 60% è un risultato straordinario. E lo stesso voto plebiscitario direi pensate che un elettore del PD su tre nelle Marche ha dato come preferenza a Matteo Ricci chiaramente c'è stata un'investitura su questo personaggio politico della nostra città che dimostra di avere tutte le carte in regola per il futuro della nostra regione. E restiamo sull'inchiesta degli affidamenti diretti passando dal centro-sinistra alle voci di centro-destra perché al di là dell'inchiesta continua anche il lavoro della Commissione Controllo e Garanzia come ci illustra ai nostri microfoni il consigliere comunale Marco Lanzi. Abbiamo ascoltato tutti i dirigenti che hanno firmato le determini relative agli affidamenti e ai contributi dati a Opera Maestra e Stella Polare. Abbiamo sentito tutti i dirigenti, abbiamo cominciato a sentire anche i vari assessori che avevano firmato il delivery e che quindi in qualche modo erano coinvolti in questi affidamenti. Stiamo quindi sentendo la parte politica perché noi siamo convinti di una cosa io sono convinto assolutamente di una cosa che questi dirigenti non è che come dice l'ex sindaco Ricci hanno fatto tutto il testo a loro che la responsabilità è solo a loro. Io non ci credo, non è possibile che questi dirigenti a un certo punto siano impazziti e abbiano firmato delle determine che chiaramente alcuni di loro, adesso due di loro sono indagati addirittura. Quindi io non ci credo, secondo me c'è stata una regia c'è una regia, c'è qualcuno che chiaramente ha dato questo input e chiaramente quello che sta cercando adesso è di fare anche la Commissione e di riscontrare se c'è effettivamente questo collegamento tra una volontà politica e una regia e quello che poi è successo di fatto che si è riscontrato poi negli affidamenti e nei contributi. Per questo noi abbiamo ascoltato, ripeto, ultimamente avevamo ascoltato Belloni, l'assessore Belloni che all'epoca era l'assessore, la Franco Ellucci, abbiamo chiesto alla prossima riunione di mercoledì prossimo abbiamo chiesto di ascoltare Massimiliano Amadori perché Arcecci che era stato per sette anni nella precedente registratura e capo di gabinetto l'abbiamo già sentito, abbiamo chiesto adesso di sentire Massimiliano Amadori che dal 2022 è stato anche lui ex capo era anche lui capo di gabinetto. Questo chiaramente per cercare di chiudere il cerchio. Poi sicuramente chiederemo anche di sentire la persona che sappiamo benissimo è più tirata in causa anche da parte nostra da parte dell'opposizione che è il sindaco Ricci vedremo quando lo chiameremo se verrà in commissione. Commissione d'approfondimento del centrodestra peserese sugli affidamenti del Comune Commissione d'inchiesta chiesta invece dal Partito Democratico Regionale per far luce sulla vicenda di Atim l'Agenzia per il Turismo e Internazionalizzazione delle Marche. Partita con 8 milioni di spesa e altre risorse ricevute da assessorati regionali come quello del turismo che fa capo al presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ma che risultano difficili da quantificare secondo la Corte dei Conti come raccontato dalla consigliere del PD Marche Michela Vitri Atim, l'ente partecipato di promozione turistica delle Marche si ritrova così al centro di uno scandalo di affidamenti dove il PD chiede chiarezza e trasparenza alla regione Atim è l'Agenzia Turismo e Internazionalizzazione delle Marche nata per esplicita volontà del presidente Acquaroli che è anche assessore al turismo il 7 dicembre del 2021 da allora in poi come ha lavorato Atim? Con una serie di affidi diretti ha fatto solo affidi diretti poteva farlo? non poteva farlo? noi crediamo di no molti avvocati ci dicono di no ma a prescindere da questo l'abbiamo sempre definito un carrozzone politico in queste ultime settimane però ci siamo accorti che forse c'è anche qualcosa di più e ad accendere il campanello d'allarme è stata la Corte dei Conti perché i giudici nella loro relazione della parifica qualche settimana fa scrivono esattamente che la condotta di Atim è elusiva dei principi di veridicità, trasparenza, correttezza e quindi siamo andati a verificare questi affidi diretti e ancora una volta come ha detto Atim c'è un coacervo di indirizzi, atti, inestricabile che passa dall'assessorato al turismo della regione Marche ad Atim e viceversa tanto da non capire nemmeno chi chiede, chi paga, chi fa cosa e in effetti ci siamo resi conto che in questi anni Adati non ha quasi lavorato nessuno per questo siamo andati nei loro uffici a vedere diverse volte e non c'era mai nessuno, le scrivani erano sempre vuote eppure lì, secondo Aquaroli, dovevano lavorarci 12 persone alla Corte dei Conti hanno risposto che 4 stavano negli uffici che sono al quarto piano della Camera di Commercio ad Ancona dove pagano 170 mila euro d'affitto e invece nessuno cos'è quindi Atim? una scatola vuota per fare affidi diretti probabilmente questi affidi diretti sono quasi tutti parecchi sopra soglia, sopra i 140 mila euro ce ne sono alcuni, uno degli ultimi 366 mila euro per una mostra a Roma cosa porta alle Marche? Non lo sappiamo ce ne sono tanti, su cui invito anche voi a controllare e a verificare perché alcuni sono curiosi una stessa società che fa promozione, valorizzazione a Roma è stata pagata 80 mila euro per fare la promozione di un evento a Gabiccia e identica società con la stessa sede nello stesso numero civico, lo stesso amministratore per fare la stessa attività, altri 50 mila euro ma non solo, in questo momento a Parigi una fiera a Parigi e la fiera dei camper a Parma sono affidate a società romane le Marche partecipano a Parigi e a Parma affidando l'allestimento a società romane cosa rimane nelle Marche, le nostre attività economiche e produttive non ci sono bandi, non ci sono richieste di manifestazione di interesse quindi qual era la vera funzione di Atim ora ce lo stiamo chiedendo davvero e per questo ho presentato un'interrogazione a cui Acquaroli dovrà rispondere mostrandoci tutti gli affidi diretti ma non solo, in Consiglio regionale come gruppo PD consigliare chiediamo una commissione d'inchiesta e chiediamo le dimissioni di Acquaroli da assessore al turismo diritti LGBTQ+, carriere alias centro antidiscriminazione e cultura della diversità si è focalizzata su questi temi la due giorni che ha visto Pesaro capitale dell'inclusione di genere ospitando il meeting annuale della rete Redi in queste due giornate in cui abbiamo ospitato come Comune di Pesaro l'incontro annuale della rete Redi abbiamo affrontato diverse tematiche che riguardano le discriminazioni omo-lesbo-bitransfobiche che riguardano il territorio italiano e nello specifico oggi pomeriggio all'interno dell'evento pubblico anche quelle che sono le azioni di contrasto a queste violenze che nel nostro territorio nella nostra provincia continuiamo a fare grazie anche al supporto dei centri antiviolenza di Fano in queste giornate sono state tante le tematiche affrontate dalla questione delle coppie omogenitoriali che ancora non hanno un pieno riconoscimento dei diritti come genitori di bambini e di bambini alla questione della difficoltà di essere accettati di avere dei diritti e supporto anche delle persone intersex e una parentesi sulle persone trans e su quello che le amministrazioni locali possono fare anche per agevolare carriere alias che già nelle scuole anche della nostra città sono dei percorsi che sono stati attivati noi come Archie Gagora Pesar Urbino insieme a Comunitas di Ancona abbiamo aperto il centro a Fano presso il paricentro si chiama Rainbow Hub e poi abbiamo anche invitato sia per vicinanza ma anche perché insomma abbiamo delle pratiche simili abbiamo invitato anche il centro Pride di Martinsicuro quindi abruzzese l'importanza di continuare a parlare di queste tematiche dell'odio che c'è verso la comunità LGBT serve per portare avanti una cultura di inclusione per una società che sia sempre più ampia e capace di intercettare i diritti di tutte tutti e tutto e in questa azione in questa lotta siamo più di 70 enti presenti qui nella città di Pesaro altri ci hanno seguito e hanno seguito i lavori collegati da remoto circa 150 enti hanno partecipato a questo incontro annuale Il Comune di Pesaro dà l'ok ai permessi per i lavori che delimiteranno l'accesso di estrani dentro il condominio di Via della Robbia delimitazioni che serviranno ad evitare l'accesso durante le ore notturne a chiunque non sia residente nella palazzina mantenendo come priorità il benessere degli abitanti che convivono con continue presenze di estrane nell'atrio e dei problemi anche legati al bivacco oggi il sopralluogo del sindaco Biancani degli assessori Pozzi e Mengucce della consigliera Marchionni il costo degli interventi privati sarà completamente a carico dei residenti ma era necessario il consenso del Comune per delimitare le zone che in parte sono private in parte pubbliche e in parte private ad uso pubblico e poi continua la straordinaria operazione di pulizia delle caditoie settimana per settimana quartiere per quartiere sul suolo pubblico di Pesaro dal 28 ottobre al 3 novembre si interverrà nel quartiere di Muraglia si comincia lunedì con le vie Berni Boccaccio Bembo Boiardo Poliziano Alberti e Ariosto e invece da domani al 31 ottobre la Sala Laurana del Palazzo Ducale di Pesaro ospiterà la mostra itinerante Bastamianto che ha lo scopo di informare sul corretto approccio a questa problematica testi, notizie, immagini filmate ed esperienze sul campo racconteranno tutti gli aspetti e rischi d'esposizione a un materiale che ancora oggi resta un pericolo per la salute dei cittadini si tratta di un'esposizione organizzata dall'azienda sanitaria territoriale che verrà presentata domattina con un convegno inaugurale a partire dalle 9 e si conclude domani la 77esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica GAD quando al Teatro Rossini alle 21 chiuderà il sipario il Teatro Comico di Carlo Goldoni messo in scena dalla compagnia La Graticcia di Verona domenica invece alle 11 nella Sala della Repubblica si terranno le premiazioni del concorso e dal Teatro Rossini passiamo alla Vitri Frigo Arena dove domani sera è previsto il concerto di Renato Zero nell'ambito del tour autoritratto i concerti evento Renato Zero proporrà le canzoni che hanno segnato la sua straordinaria carriera tra grandi classici e per le rare oltre ai brani contenuti nell'ultimo album autoritratto Ed ora concludiamo il nostro telegiornale illustrandovi un progetto dedicato a sport inclusivo che riguarda il comune di Sasso Corvara Auditore un progetto che parte già da tre anni fa perché siamo partiti con un'indagine con un sondaggio proprio rivolte alle famiglie ma soprattutto ai giovani del nostro comune nel comune di Sasso Corvara Auditore abbiamo fatto questa indagine questo sondaggio nelle scuole e siamo partiti da che cosa? Da una consapevolezza cosa ci mancava nel nostro territorio quindi abbiamo chiesto ai giovani perché c'era questa dispersione sportiva perché non partecipavano alle attività proposte dalle varie associazioni del territorio e quali erano i problemi quindi sono emersi problemi economici sono emersi problemi dovuti alla mobilità perché siamo un territorio che non è collegato dai trasporti pubblici quindi quali sono quelle criticità che portano i giovani a non iscriversi alle attività sportive proposte dalle nostre associazioni quindi grazie alla collaborazione delle associazioni presenti sul territorio agli enti del terzo settore e all'amministrazione pubblica siamo riusciti a candidarci a un bando ministeriale vincendolo ci ha portato ad ottenere un finanziamento che si trasformerà in che cosa? in attività per sviluppare progetti di sport inclusivo sport per tutti quindi è un approccio allo sport gratuito quindi i giovani del nostro territorio insieme alla loro famiglia potranno iscriversi partecipare alle varie attività sportive proposte delle associazioni gratuitamente Sport e Salute è una società governativa noi lavoriamo in accordo con il ministero dello sport e dei giovani con il dipartimento per lo sport tutti i nostri progetti sono finalizzati alla promozione sportiva sono finalizzati ai corretti e sani stili di vita e a garantire l'attività sportiva lo scopo e l'obiettivo di costruire uno spazio dove possa esserci una crescita personale rivolta ai giovani e ai quelli un pochino meno giovani perché comunque il target va dai 14 ai 34 anni cercando di non solo fare attività sportive ma attività ambientali laboratori dove loro possono imparare anche a gestire e essere d'aiuto nel mondo dello sport come aiuto allenatori e in questo coinvolgere anche le persone un attimino un po' più fragili che possono avere delle difficoltà quindi cerchiamo di creare un ambiente dove tutti quanti possono avere uno spazio di crescita personale sociale e anche ambientale e si conclude qui qui il nostro telegiornale ma continuano gli spazi informativi sul nostro canale 80 perché subito dopo il Tg alle 20 andremo a scoprire il prossimo comune capitale al quadrato per una settimana parliamo di acqualagna che sarà appunto il comune capitale a partire da lunedì ne parleremo nel magazine che comincia alle ore 20 e poi ancora prima serata dedicata ad una novità anche qua parliamo di approfondimenti informativi quelli di primo piano questo nostro nuovo format in questa prima puntata curata da Teobaldo Bianchini che verterà sul tema bullismo e cyberbullismo un problema da risolvere in compagnia degli ospiti che sono l'avvocato Pia Perricci l'ex segretario del sindacato di Polizia Siulp Marco Lanzi e la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Palma appuntamento come detto alle 21 e invece domattina torna l'appuntamento informativo di Buongiorno Rossini appuntamento fisso dal lunedì al sabato sempre rigorosamente in diretta a partire dalle 7 e 20 rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà curata dal nostro Antonio Astuti e facciamo un salto anche a domenica quando come di consueto vi proporremo indifferita le partite di questa stagione di Serie A2 della VL vi ricordiamo che la VL gioca sul campo domani sera alle 20 e 30 il campo è quello dell'Urania Milano rivedrete tutto domenica alle 21 e 30 e poi anche lunedì alle 21 Urania Milano Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio e vi ringrazio per averci seguito